Ciao a tutti ragazzi, qui è Archevi Parla. Sono qui perché ho trovato un documento Google abbastanza interessante, ho visto un po' su Reddit dove un ragazzo ne parlava. Questo documento ce l'elenco per tutto quanto il ricettario di Newton, con tutto quello che si può trasformare per quanto riguarda le Gabble Gum. Generalmente, come è stato anche un pochino per il video della Tee che vi lascio in descrizione, mi piace fare questo tipo di analisi un pochino più dettagliate. Per chi non lo sapesse il ricettario di Newton, che è presente su Black Ops 3 e dove in realtà si rappresenta anche su Black Ops 4, permette di scambiare alcune Gabble Gum per altre, potendo scambiare quelle specie di distillazioni di cui 3 sono gratuite ogni giorno e possiamo ottenerne altre o con code points, oppure scambiandone per liquidi video che possiamo tranquillamente ottenere in game. E oltre che dare comunque la possibilità a chiunque di scambiare alcune Gabble Gum troppo numerose comunque che non ci interessano in altre che invece ci interessano, questa cosa ha anche un ciclo che va a ripetersi. Penso che un ciclo duri intorno ai due mesi, forse massimo tre, a un certo punto ricomincia. Quindi diciamo che alla fine vediamo più o meno le stesse cose, anche se in due o tre mesi di tempo, dato che c'è una rotazione anche giornaliera, è chiaro che siano veramente tante tante trasformazioni e cicli che possiamo fare, e anche soltanto andare ad aspettare quello che veramente ci interessa. Io di recente che stavo giocando un pochino più spesso in Mega Gum, stavo pensando mi servono altri Collezione Completa, Raindrops in inglese, quindi in questo caso con questo documento posso dare un'occhiata a quando arriverà appunto Collezione Completa nella rotazione e potrò vedere appunto cosa mi serve da poter scambiare. Ci ho guardato generalmente di quelle che andrebbero scambiate per anche soltanto un Collezione Completa, sono davvero davvero tante, e anche di Gabble Gum che in passato ho già scambiato per altre cose, tipo avere 8 carbonizzato, 5 gusta sorpresa e forse un dono temporale. Ci vogliono veramente tante tante Gabble Gum per crearne anche giusto una di quelle ultra mega rara, e lo capisco perché sono veramente assurde, ma in certi casi fa davvero strano scambiare anche un totale di 10 gam o tipo 5 gam mega e un'altra ultra rara mega, però venne soltanto un'altra. Quindi generalmente magari mi stavo dedicando un pochino più spesso al Liquid Farming, che è noioso ma in parte può funzionare, il problema è che avendo tutte queste Gabble Gum, e sono davvero tante, anche con diversi cicli da 3 o anche per dire da 1 di Liquid Divinium, non sempre possiamo trovare quello che ci interessa. Di recente ho trovato dei 3 shoppings frenato di fila, che non sono male, ma ne ho già tipo 13, non è che mi interessino così tanto, anche perché ne uso giusto uno ogni partita, e alla fine il resto del game è difficile che vada ad utilizzarne un altro. Mentre un collezione completa, che ne ho soltanto 4, dovrei teoricamente averne almeno 8 o 9 se non 10 per fare un game come si deve, soltanto per farmi i perk inizialmente, figuriamoci per anche poter essere utilizzato il resto della partita, per un munizioni, un perk aggiuntivo, una nuke, qualunque cosa. Di altre gamme generalmente importanti ne ho abbastanza, come uno specializzato, un restituzione o simili, però anche giusto quelle OP utilizzate soltanto per divertimento, come appunto sempre collezione completa, ma anche fine immediata o poter assoluto. Poter assoluto è la tavola che ci penso, forse ne ho 14-15, quindi sono più che sufficienti e come sempre comunque non sono legit, ma sono generalmente divertenti da utilizzare. Stessa cosa magari fine immediata che ne ho soltanto 3, un tempo ne avevo 8, ma purtroppo ne ho perse diverse, è chiaro che sia un pochino più divertente averne davvero tante, quindi generalmente sto giocando un pochino a Black Ops 3 sia per fare delle partite, adesso che sono finalmente libero dagli esami ho molto più tempo e molta più concentrazione per potermi dedicare a zombie, di recente in streaming ho fatto vedere un pochino una partita di Moon che si è conclusa purtroppo con la mia morte a round 93, ma appunto non era un game serio, era soltanto per divertimento e stavo giusto testando nuovamente la strategia, adesso che finalmente potevo farlo oltre che con le gam mega che è soltanto divertente e chiaramente comodo, anche con le AT, perché dopo tutto, dopo aver fatto Moon e anche Ascension in entrambi i casi no AT, la mancanza di cavo inerte un pochino si sente, o generalmente quando si va a riutilizzarlo, veramente quella AT è troppo troppo forte, ne abbiamo parlato anche appunto nel video in cui ho letto tutti quanti i dettagli e le statistiche nel codice del gioco, va bene alto forno, va bene trasformato anche in un fuoco d'artificio, ma cavo inerte è una roba veramente incredibile e forse troppo troppo forte. E come detto prima, in realtà il recettario di Newton deve essere presente anche su Black Ops 4 ed è davvero secondo me una grossa mancanza. Io lì ho veramente centinaia di elisir di qualunque cosa e non ce ne sono magari alcuni che veramente sono così importanti perché normalmente non li ho praticamente mai utilizzati, mi dimentico molto spesso di metterli nel setup e ho sempre preferito fare classic elisir, anche perché il sistema di Black Ops 4 che praticamente si possono spammare non è più come era su Black Ops 3 a inizio round o qualcosa del genere trovarsi la Gabble Gum giusta che è nel ciclo del nostro pacchetto ne ha sempre fatto un pochino strano. Poi come sempre alcuni elisir classici o anche soltanto Gabble Gum sono abbastanza forti, un'antitesi alchemica di Black Ops 3 o come su Black Ops 4 un dono temporale, un qui proprio no e simili, sono comunque molto molto comodi e secondo me sufficienti per fare un game come si deve. Poi è chiaro che se qualcuno potesse spammare restituzione, potere assoluto, specializzato e altre cose del genere sia molto molto più comodo, molto più veloce e anche comunque più assurdo perché se guardiamo un attack d'Arthoten con già la strategia incredibile di lanciarazzi e Zeus se ci sono problemi di munizioni normalmente si fanno i trade con cartuccella da bandito mentre in All Elixirs possiamo semplicemente buttare fuori un'antitesi, un'munizione o qualunque cosa e continuare molto molto tranquillamente. Quindi la grossa differenza come sempre è quella oltre che per chi magari deve fare un round davvero alto il poter giocare in locale oppure no. Dobbiamo essere come sempre connessi al nostro account e online ai server per giocare in MegaGam o All Elixirs mentre per fare un NoGam, ClassicGam, Classic Elixir o qualcosa del genere possiamo stare tranquillamente in locale ed evitare meno problemi di disconnessione. Poi io come sempre ho il fatto la Mixbox si aggiorna completamente a caso senza dirmi niente quindi alcuni game sono stati buttati anzi diversi game sono stati buttati. Io ovviamente ragazzi vi lascio questo documento qui sotto in descrizione insieme al post originale mi sembra davvero ottimo poterci dare un'occhiata ogni tanto anche giusto per dire boh vediamo domani in anticipo quale sarebbe il ciclo o quale gam potremmo scambiare anche se ripeto a seconda dei cicli un pochino come a certi giorni può essere qualcosa interessante oppure no o generalmente anche se è una GabbleGam che a me interessa penso devo utilizzarne 10, 11, ogni tanto 7, 8, 9 di altre gam che magari comunque ogni tanto possono essere utili o mi servono per averne soltanto uno o due di gam leggermente più potenti o una di gam molto molto potenti quindi bisogna sempre valutare un pochino e pesare com'è lo scambio a seconda di GabbleGam che ci interessano oppure no e la quantità da dover scambiare magari anche più GabbleGam alla volta per avere quello che davvero ci interessa un conto era magari scambiare un tempo di morire che ne ho tipo 30 non soltanto per avere tipo 9 immolazioni liquida quello è uno scambio che farei 100 volte di fila senza neanche pensarci due volte mentre già magari scambiare per dire 10 immolazioni liquida per un potere assoluto è uno scambio un pochino più da pesare e valutare un pochino più dettagliatamente perché è chiaro che magari immolazioni liquida non mi hanno già davvero tanti o forse ne ho 75 ma 10 alla volta sono molti potere assoluto magari per dire che è una GAM un legit per fare round molto alti bisogna vedere un pochino se ci interessa di più per il divertimento o per altro ma anche altre GAM come uno specializzato uno shopping sfrenato o il primo accitato collezione completa ci possono interessare ma bisogna vedere se davvero valgono così tante GAM e davvero ci servono così tanto per le nostre partite successive non so quante persone ancora vanno ad utilizzare per dire il cetale di Newton io un tempo magari avviavo il gioco tutti i giorni anche giusto per darci un'occhiata adesso teoricamente con questo documento non c'è neanche più il pensiero ma ogni tanto si può vedere anche giusto per dire cosa ci può interessare oggi quali sono i giri che possiamo fare se c'è davvero qualcosa che ci interessa quindi avvio il gioco e scambio qualche gamma a destra e sinistra in conclusione abbiamo questo documento di Google che può offrirci un'analisi un pochino più dettagliata sia di tutti quanti quelli che sono gli scambi che possono essere fatti sia del ciclo che va appunto a ripetersi quindi se qualcuno magari vuole tenerselo da parte anche giusto per dire mi segno una data in cui veramente c'è uno scambio che mi interessa davvero molto e in futuro ci posso pensare ma anche giusto per non dover ogni volta avviare il gioco come facevo io che sì si perderanno magari 5-10 minuti ma molto più comodo aprirsi il documento scorrere la data giusta e vedere cosa c'è oggi fatevi sapere ragazzi come al solito le vostre opinioni riguardante questo elenco che ci fornisce tutti quanti i dettagli sul recettario di Newton e se voi magari ancora andate ad utilizzarlo so che magari non tutti quanti utilizzano sempre le Gabble Gun specialmente quelle Mega magari si sta molto di più sulle Classic per fare una partita come si deve o addirittura come fa il mio amico Zeus direttamente no gum perché vuole qualcosa di un pochino più classico e semplice ma penso che ogni tanto anche solo per divertirsi o come fanno alcuni in pubblica giusto per spammare un po' di gum o fare robe del genere ci possa stare come sempre è chiaro che possa dar fastidio a certe persone utilizzare alcune cose ovviamente non lecite come un fine immediata potere assoluto a un passo dalla morte e quelle ci possono come sempre stare in un game che non è affatto serio ma è soltanto per divertirsi fare uccisioni fare 50 round in meno di un'ora o alcune cose del genere altre gamme invece se stanno facendo appunto un mega gamme in record o un easter egg o robe simili possono comunque fare comodo o anche giusto per alternare io le gabby o gamme di black ops 3 nonostante siano davvero OP alcune anzi troppo le ho sempre considerate come qualcosa di divertimento aggiuntivo e quando un player è un pochino ha sviscerato tutto quanto il gioco e sa fare tutto quanto è come un pochino magari mettersi le mod su un gioco che abbiamo già finito più e più volte quindi l'unica differenza è che ci stanno divertendo e otteniamo tutto quanto subito per cui spawnare round 1 e mangiarsi uno specializzato avendo subito tutti i perk è chiaro che si è comunque ogni tanto divertente poi ci sta sempre fare invece il setup quindi farsi i punti aprire le porte costruire per dire un arco su the ice and the rock e la wonder weapon su shadows e non per forza avere come si dice la papa pronta fin da subito il video quindi si conclude qui spero come sempre che vi sia piaciuto mi ricordo che qui sotto in descrizione ci sono anche i link per i miei social qui la pagina instagram e il canale twitch mi invito a seguire entrambi e anche iscrivervi qua sul canale youtube ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio ala grazie a tutti grazie a tutti